Riparte il campionato di serie di Girone F con l'Aquila che sconfina fino ad arrivare in terra casertana per il più classico dei testa coda contro il Matese, relegato in ultima posizione. Cappellacci cambia tutto e propone un 4-3-1-2 rispetto a quanto immaginato, con Del Pinto che malgrado il rischio cartellino trova una maglia da titolare insieme a Bellartinelli, anch'esso tra i diffidati. Angiulli, Uali in mediana e Origlio a supporto della coppia d'attacco formata da Banegas e Alessandro, Matese di Urbano che conta sullo spirito di ribalza con Cassese e Galesio subito in campo contro la loro ex squadra. Il direttore di gara è il signor Vincenzi di Bologna. L'Aquila comincia benissimo e dopo 7 minuti caccia subito la freccia. Al terzo angolo consecutivo la testata di Banegas infila Rinaldini andando ad anticipare una difesa poco attenta e scarsamente reattiva. E' il nono centro per l'Argentino. Dieci minuti più tardi è fulminio il contropiede degli abruzzesi ma il pallone a favore di Bellardinelli proiettatosi nel cuore dell'area viene clamorosamente ciccato. Come un minuto più tardi accade a un Banegas davvero scatenato che però non riesce a colpire nel migliore dei modi. Al ventottesimo Michelin non trattiene la sfera su un traversone matesino. Per Vincenzi di Bologna il pallone viene di seguito controllato fuori area e decreta a questo punto un calcio di punizione da posizione pericolosissima. Napoletano va a battere il piazzato trovando però il muro aquilano attento a respingere l'insidia. Napoletano che non demorde provando a far male a Michelin attorno al minuto 43 sul cross immediato di Russo. L'incornata del 10 matesino finisce di poco fuori dallo specchio della porta. Termina con questo tentativo del Matese il primo tempo con l'Aquila partita a mille e meritatamente in vantaggio. Di seguito almeno tre ripartenze non concretizzate dai ragazzi di Cappellacci che hanno tremato solo sulla punizione di Napoletano. Nella ripresa stessi effettivi ma dopo i primi dieci minuti di gioco Urbano allora decide di mettere dentro Leti e Passaue al posto di Siene e Ricciardi. Matese che si guadagna al dodicesimo un piazzato che va a battere lo specialista russo. La battuta del sette parte bene ma la sfera non si abbassa andando a sfiorare la traversa di Michelin proteso in tuffo. Attorno al ventesimo girandola di Cambi con Cappellacci che sceglie Piscitella per lui è l'esordio e Costa Ferreira che va a fare il riferimento offensivo al posto di Alessandro Ebbanegas. Urbano inserisce Manfrellotti per Napoletano. Poco dopo Uali è costretto al cambio dopo un brutto colpo e allora anche Orsi fa il suo esordio. Al ventottesimo è clamorosa l'occasione per il Matese. Da angolo si genera una mischia impressionante che fa battere forte il cuore agli Aquilani ma i lupi di casa non riescono a centrare la porta da buona posizione. L'Aquila cerca di alleggerire con Origlio tre minuti dopo la mezz'ora che dopo l'appoggio di Piscitella prova il mancino dalla distanza ma senza creare insidia a Rinaldini che vede però i fantasmi sulla dormita della sua difesa poco dopo. Persiani è bravo a farsi trovare pronto sull'incertezza, meno preciso nella conclusione che finisce alta di poco. L'Aquila spesso gestisce male il pallone ma al quarantaquattresimo può chiudere la contesa in anticipo con un'azione avvolgente sulla destra. Il pallone arriva a Costa Ferreira che prova il destro di giustezza ma Rinaldini ci arriva tuffandosi sulla sua sinistra. All'ultimo respiro il Matese va vicinissimo al pari quando in piena area Michelin si scontra con Manfrellotti ma Vincenzi di Bologna fischia la carica dell'attaccante dopo l'impatto. L'Aquila regge le ultime sfuriate Matesine e dopo ben otto minuti di recupero porta a casa una vittoria dal valore inestimabile rimanendo a meno tre dalla capolista Campobasso e facendo il pieno nel serbatoio della propria testa prima del derby di domenica prossima contro il Chieti.